Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Migliorare il proprio aspetto, che sia per se stessi o per gli altri, è un desiderio comune, soprattutto quando si raggiunge una certa età. Tuttavia, per la famiglia di cui sto per narrarvi le vicende, questo desiderio ha segnato l'inizio di una devastante catena di eventi. Quello che doveva essere un intervento di routine si è trasformato nell'incipit della distruzione di tutto il loro mondo. In questa tragica vicenda emerge come le persone a noi più vicine possano rivelarsi completamente diverse da ciò che pensavamo, portando alla luce segreti oscuri e sconvolgenti che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. È il 2007, ci troviamo nello Utah, più precisamente nel sobborgo di Pleasant Grove, una comunità recintata, ovvero un tipo di complesso residenziale dotato di tutti i servizi e i comfort necessari, con ingressi ad accesso sorvegliato per automobili, biciclette e pedoni. Qui vive la famiglia McNeill, composta da Michelle e Martin e dai loro otto bambini, alcuni biologici e altri adottati. La coppia si è conosciuta quasi 30 anni prima in una chiesa mormona. Michelle è una ragazza bellissima e popolare, fa la cheerleader, recita, suona il violino ed è stata incoronata regginetta del ballo di fine anno. Non eccelle solo nelle attività extrascolastiche, ma si impegna moltissimo anche nello studio per ottenere buoni voti. Inoltre è un membro attivo della chiesa locale ed è nota per essere una ragazza incredibilmente affettuosa e primurosa. Nel 1976 vince anche il titolo di Miss Concord. Quando incontra Martin a 21 anni, lui ha appena lasciato l'esercito, per l'esattezza è stato messo in congedo per disabilità e per motivi di salute mentale. La loro storia d'amore progredisce molto rapidamente, tanto che il 21 febbraio 1978 decidono di fuggire e di sposarsi in gran segreto, senza dire nulla a nessuno. Quasi 30 anni dopo, Michelle e Martin hanno una famiglia numerosa, vivono in una bella comunità e tutti li adorano. Rachel, Vanessa, Alexis e Damien sono i loro figli biologici. Si prendono cura anche della bambina di Vanessa, Ada, che ha partorito quando era adolescente, proprio come se fosse figlia loro. Lei è ancora piccola, quindi vive ancora a casa con i suoi nonni, ma gli altri figli biologici ormai sono tutti al college e non vivono più con loro. I McNeil hanno anche adottato tre bambine ucraine, Giselle, Sabrina ed Elle. Michelle ama essere madre ed è molto brava nel suo ruolo, è empatica e si preoccupa davvero tanto per i suoi figli. Il loro benessere è di fondamentale importanza per lei e Giselle, Sabrina ed Elle la adorano. Adorano anche Martin, lo guardano con ammirazione e vogliono diventare come lui da grandi. L'infanzia dei bambini di casa McNeil è stata felice e piena di amore e i figli più grandi tornano spesso a casa per vedere le sorelline, nonostante gli impegni accademici al college. In questo periodo della loro vita sia Michelle che Martin hanno circa 50 anni e possono contare su una famiglia unita e apparentemente senza problemi. È a questo punto che l'ex reginetta di bellezza, solitamente sorridente e sicura di sé e del sospetto, decide di volersi sottoporre a un lifting completo. Michelle si rivolge al dottor Scott Thompson, un chirurgo plastico, per un consulto. Gli spiega che vorrebbe sottoporsi a questo intervento estetico e lui acconsente. A 50 anni non è raro che le donne vogliano fare una cosa del genere. Programmano quindi l'intervento per la settimana successiva in modo che la loro figlia Alexis, che attualmente sta frequentando la facoltà di medicina, possa tornare a casa per le vacanze di primavera e prendersi cura di Michelle durante il percorso post-operatorio. L'intervento viene eseguito il 3 aprile 2007, non presenta complicazioni e si conclude positivamente, anche se quando esce dalla sala operatoria Michelle non è nelle migliori condizioni e Alexis trascorre la notte in ospedale accanto alla madre. Il giorno dopo però Michelle si riprende e viene dimessa, quindi viene accompagnata a casa da Alexis, che è in grado di prendersi cura di lei visti i suoi studi. Tuttavia, 8 giorni dopo, Michelle viene a mancare. L'11 aprile 2007, intorno alle 11.35, arriva una chiamata al 911 proveniente dalla residenza McNeil. Martin esclama al telefono che sua moglie è annegata nella vasca da bagno e afferma che non riesce a tirarla fuori dalla vasca da solo. Un vicino, allertato dalla piccola Aida, entra in casa per vedere cosa sta succedendo. Trovandosi davanti a quella scena prova ad aiutare Martin a tirare Michelle fuori dalla vasca e iniziano immediatamente a farle una rianimazione cardiopolmonare, ma non è sufficiente, c'è bisogno di un'ambulanza. Quando gli investigatori arrivano sulla scena del crimine, Martin afferma di essere stato a lavoro quella mattina. Racconta di aver partecipato a un evento e di essere poi andato a prendere Aida, la bambina più piccola tra quelle di cui si prendono cura. Era poi tornato a casa con la bambina che, appena scesa dalla macchina, era corse in casa in cerca di Michelle. È stata lei a scoprire per prima il suo corpo senza vita. Martin aveva detto ad Aida di correre dal vicino per chiedere aiuto, mentre lui avrebbe allertato Alexis chiedendole di tornare a casa immediatamente. Alexis però non riusciva a credere a ciò che le stava dicendo suo padre. Era tornata al college soltanto il giorno prima. Sua madre sembrava stare molto meglio e a quel punto non aveva più bisogno di lei. Michelle era andata a cena fuori, aveva fatto diverse faccende domestiche, insomma si stava riprendendo al meglio. Non sapeva quindi spiegarsi come le sue condizioni si potessero essere aggravate in così poco tempo provocandone addirittura la morte. Martin dice agli investigatori che Michelle forse aveva esagerato con le medicine, quelle che le erano state prescritte per l'intervento e che, intontita, poteva essere scivolata nella vasca battendo la testa. Spiega di averla trovata a faccia in giù, accasciata sulla vasca che era già piena d'acqua. Alexis dal Nevada, perché come vi ho già detto era tornata al college, ritorna immediatamente nello Utah dove riceve degli aggiornamenti su ciò che è successo. Dall'autopsia emerge che Michelle è morta per una malattia cardiovascolare. Probabilmente i farmaci che stava assumendo le hanno causato un infarto, ma Alexis non crede a questa versione, ha la sensazione che sua madre sia stata assassinata. Michelle si era sottoposta all'operazione effettuata dal dottor Scott Thompson, ma in realtà la donna non sentiva realmente il bisogno di un intervento estetico. Non aveva nulla contro la chirurgia estetica, ma si amava e non temeva l'invecchiamento. Era molto più concentrata sui suoi figli e sul loro benessere. Michelle aveva ricevuto delle pressioni per sottoporsi a questa procedura. Il tutto era accaduto molto rapidamente e anche sua figlia Alexis, che le è stata vicina per tutto il tempo, ha pensato che le cose stessero andando un po' troppo velocemente. Alexis stava frequentando la facoltà di medicina anche perché aveva deciso di seguire le orme di suo padre Martin, che era un medico e un avvocato. Aveva ben presente tutte le paure e i dubbi che aveva sua madre riguardo all'intervento. Michelle aveva problemi di pressione alte in quel periodo e alcuni medici le avevano consigliato di aspettare che la situazione tornasse sotto controllo. Inoltre voleva perdere un po' di peso prima dell'intervento per essere in una buona condizione fisica. Solitamente dopo un'operazione come questa vengono prescritti i seguenti farmaci. Un antidolorifico, un antibiotico, un sonnifero, un antinfiammatorio e una pomata oftalmica. Occasionalmente viene prescritto anche un antiemetico ai pazienti che lamentano nausea associata all'anestesia. Tuttavia Martin aveva richiesto quattro deviazioni dal protocollo abituale del chirurgo. Innanzitutto un antidolorifico aggiuntivo più forte, l'ossicodone. Inoltre del paracetamolo e idrocodone in forma liquida, anch'esso usato per alleviare il dolore moderato. Aveva poi richiesto anche una quantità maggiore di antiemetico sotto forma di supposta. Infine Michelle prendeva anche un farmaco per contrastare l'ansia, il Valium. Stava assumendo davvero tanti farmaci ed era strano perché Michelle non era solita prendere tante medicine. Il dottor Scott Thompson era colui che aveva eseguito l'intervento, ma non era lui il responsabile. Era stato il medico della donna, il dottor Martin McNeill, a fissare gli appuntamenti e a prenotare l'anestesia. Martin era sempre presente insieme ad Alexis durante le visite di Michelle. Voleva farle questo regalo anche se il chirurgo aveva espresso un po' di preoccupazione a causa della pressione sanguigna di Michelle. Tuttavia il dottor McNeill non condivideva la stessa preoccupazione e voleva che l'intervento venisse eseguito il prima possibile, convinto che Michelle sarebbe stata bene. Martin aveva fatto prescrivere dal dottor Thompson delle medicine per sua moglie in una quantità maggiore dei normali farmaci necessari per la guarigione. Il dottor Thompson rispettava il dottor McNeill poiché era un medico molto affermato. Quindi quando gli ha chiesto quei farmaci per sua moglie glieli ha prescritti, era convinto di fare la cosa giusta, ha pensato Martin sa cosa fa. Si era limitato a raccomandare a Michelle di non prendere mai i diversi farmaci insieme. Dopo il tragico epilogo il dottor Thompson e Alexis, la figlia di Michelle, iniziano a pensare che qualcuno possa essersi intromesso facendo assumere a Michelle i farmaci in modo sbagliato. Martin aveva la stessa età di sua moglie e lui non si era mai preoccupato del suo aspetto in precedenza. Tuttavia, in quel periodo aveva iniziato a frequentare la palestra regolarmente. Lavorava più ore del normale e si assicurava di apparire sempre in perfetta forma, più preoccupato del suo aspetto che di qualsiasi altra cosa. Michelle aveva iniziato a temere di perdere suo marito pensando che lui avrebbe potuto trovare un'altra donna più giovane con cui tradirla. Martin a questo punto aveva cominciato a parlare con Michelle di questo lifting. Era molto insistente e il suo atteggiamento aveva fatto sentire Michelle ancora peggio, come se di quel lifting ne avesse davvero bisogno. Martin aveva promesso a sua moglie che se avesse accettato di sottoporsi a quest'operazione estetica, lui l'avrebbe portata in crociera per due settimane e avrebbero passato dei giorni indimenticabili insieme. Tuttavia, Michelle, mentre andava all'appuntamento col dottore, aveva dei dubbi, non voleva sottoporsi a questa operazione. Alexis era in macchina con lei e suo padre e lo aveva sentito dire che se Michelle non si fosse operata adesso, non l'avrebbe mai fatto. La donna a questo punto si era rassegnata e aveva accettato di fare questo lifting. Martin avrebbe voluto portarla a casa la sera stessa, subito dopo l'intervento, nonostante gli altri chirurghi dicessero che non era una buona idea. Alexis infatti si era dovuta imporre per impedire a suo padre di riportare subito a casa sua madre. Alla fine era stata dimessa il giorno seguente e quando erano tornati a casa, Martin aveva detto ad Alexis di andare a dormire in un'altra stanza senza preoccuparsi. Si sarebbe preso lui cura di Michelle. La mattina dopo, appena sveglia, Alexis si era diretta immediatamente nella camera in cui sua madre aveva dormito per controllare che fosse tutto a posto, ma Michelle non le rispondeva. Respirava normalmente, ma c'era qualcosa che non andava. Alexis aveva quindi chiesto a suo padre cosa fosse successo e lui le aveva detto che probabilmente aveva esagerato con le medicine. Quando Michelle si era risvegliata aveva chiesto ad Alexis di metterle in mano ogni singola pillola che doveva prendere, in modo da imparare a riconoscerle perché aveva delle bende sugli occhi, e non poteva vederle. Appoggiandole sul palmo della mano avrebbe potuto tastarle col pollice e si sarebbe accorta se Martin le avesse somministrato delle pillole diverse. Michelle aveva detto ad Alexis che forse Martin le stava dando delle pillole di cui non aveva realmente bisogno. Ad un certo punto aveva anche vomitato a causa di tutte le medicine che stava assumendo, ma Martin continuava a darle altre pillole e Michelle era sempre completamente sedata. Alexis aveva iniziato a tenere un registro appuntandosi i farmaci che Michelle stava assumendo, il cibo che consumava e i suoi segni vitali. Aveva detto a suo padre che avrebbe preso il suo posto e gli aveva chiesto di non dare più medicine a Michelle. Il giorno dopo, tornati a casa dopo un controllo, Michelle stava molto meglio e non aveva più bisogno di assumere farmaci. Tuttavia Martin aveva chiesto al dottore di prescrivergliene altri, incluso il percocet, che è un antidolorifico piaceo, e il fenagram, un'antinausea. Due giorni dopo l'intervento, Michelle era migliorata ulteriormente, ma aveva ancora bisogno di aiuto per svolgere alcune semplici attività quotidiane. Un giorno, mentre sua figlia Alexis le stava dando una mano a fare il bagno, Michelle si era improvvisamente girata verso di lei. L'aveva guardata e con un'espressione molto seria sul volto gli aveva detto «Se mi succede qualcosa, assicurati che non sia stato tuo padre». Alexis non aveva idea di cosa stesse parlando e soprattutto voleva credere con tutta se stessa che suo padre non avrebbe mai e poi mai fatto del male a sua madre. La mattina della morte di Michelle, quando Alexis era già tornata in Nevada, al college, aveva chiamato a casa verso le 8.44 per parlare con sua madre, la quale l'aveva tranquillizzata, dicendole che stava bene e che sarebbe andata a prendere le bambine a scuola al termine delle lezioni. Alexis, dopo averle parlato, si era sentita molto meglio, era più tranquilla. Anche se non era lì con lei, sua madre sarebbe riuscita a cavarsela. Eppure, circa mezz'ora dopo, Martin l'aveva chiamata per dirle che sua madre non stava bene, ma che non voleva rimanere a letto. Martin aveva quindi chiesto ad Alexis di chiamare nuovamente sua madre per convincerla a restare a casa e a riposarsi. Alexis aveva provato a chiamarla, ma partiva sempre la segreteria telefonica e, due ore dopo, Michelle aveva perso la vita. Le bambine che ancora vivevano con lei l'avevano vista quella mattina seduta sul divano davanti alla tv. Michelle aveva detto loro che stava andando tutto alla grande e che sarebbe andata lei a prenderle. Ma come ben sappiamo, non ha potuto rispettare la sua promessa. Quando Alexis aveva ricevuto la telefonata da suo padre che la informava della morte di sua madre, il primo pensiero che le era abbalenato in mente era che suo padre avesse ucciso sua madre. Era una sensazione viscerale. Quando aveva saputo che la morte di sua madre era stata considerata accidentale, si era sentita confusa, ma quella sensazione però non l'abbandonava proprio. Gli investigatori ritengono probabile che Michelle fosse in uno stato di fragilità a causa dei farmaci che stava assumendo. Credo non sia possibile anche che Martin non fosse riuscito a sollevare Michelle, perché è invalido. Infatti era da qualche settimana che camminava con l'ausilio di un bastone. Di recente aveva iniziato ad affermare di avere un cancro a un piede. Inoltre diceva di essere nella fase iniziale della sclerosi multipla. La sua salute in pratica stava peggiorando sempre di più, giorno dopo giorno. Martin aveva anche fatto un annuncio in chiesa dicendo che gli restava meno di un anno di vita. È probabile quindi che non fosse abbastanza in forze per sollevarla. Inoltre Martin ha un alibi. Quella mattina era al lavoro e poi era andato a prendere Ada a scuola. I vicini, gli operatori e gli investigatori affermano che Martin sembrava molto angosciato quando ha trovato sua moglie. La centralinista che ha parlato con Martin, Heidi Peterson, ha detto di aver notato quanto lui non fosse lucido e che sembrava irritato per tutte le domande che gli stava ponendo. Aveva infatti riattaccato la chiamata per tre volte, costringendola a richiamarlo. Inoltre l'indirizzo che aveva fornito inizialmente non era corretto, probabilmente a causa del panico che stava provando. Quando Michelle è stata vista dai vicini, era a faccia in su nella vasca. La sua testa era vicina al rubinetto ed era completamente immersa nell'acqua. Stranamente, aveva i vestiti addosso. Se ricordate però, Martin aveva detto che era a faccia in giù nella vasca. Dopo averla tirata fuori dalla vasca, il vicino aveva inoltre affermato di non aver visto Martin mettere la bocca sulle labbra di Michelle. Quindi, non stava cercando realmente di rianimarla? Quando i paramedici, appena arrivati, hanno iniziato a praticare la rianimazione cardiopolmonare a Michelle, dalla sua bocca ha iniziato ad uscire molta acqua. Ma questo sarebbe dovuto succedere mentre Martin tentava di praticare la rianimazione polmonare. Quindi Martin stava mentendo o non era riuscito a praticare correttamente la rianimazione? Beh, siamo così certi che un medico possa sbagliare una manovra così basilare? Michelle aveva veramente troppa acqua nei polmoni, quindi qualcosa sicuramente non era andato per il verso giusto durante la prima rianimazione. Martin continuava a cercare di parlare con i paramedici di quello che era successo, li intralciava, ma nessuno gli rispondeva, perché stavano cercando in ogni modo di salvare la vita a sua moglie. Martin poi era andato su tutte le furie, aveva iniziato a urlare, sfaventando i presenti con i suoi scatti di rabbia, tanto che è stato allontanato dalla stanza. Il suo comportamento era sicuramente strano, ma il dolore, si sa, può rendere le persone poco lucide. Quella sera Damien, il figlio di Martin e Michelle, e la sua fidanzata arrivano alla casa di famiglia. Appena entrati a casa, Martin gli chiede di guardare nel bagno in cui è morta Michelle. Martin aveva detto che c'era sangue ovunque quando l'aveva trovata, ma ora Damien si trova davanti una stanza completamente pulita, senza sangue. Il caso viene archiviato come morte naturale, quindi a questo punto sono le figlie di Martin e Michelle a condurre delle indagini. Martin era al lavoro quella mattina, si stava tenendo un evento a cui aveva partecipato tutto l'ospedale, e lui era lì per ricevere un premio. Ma scoprono che prima di riceverlo si era avvicinato al coordinatore dell'evento, per assicurarsi che gli avrebbe scattato una foto mentre era lì. Forse aveva bisogno di una prova a sostegno del suo alibi? Per quanto riguarda la sua malattia, nessuno aveva mai chiesto a Martin informazioni precise sulla diagnosi o sui sintomi, ma avevano notato che stava raccontando a diversi vicini e colleghi di accusare sintomi diversi. Lo avevano tra l'altro anche visto mentre ristrutturava il suo seminterrato e trasportava delle lastre molto grosse di cartongesso. Camminava e correva senza aver bisogno del bastone, poi però qualche ora dopo zoppicava. Insomma, la situazione è strana. Così decidono di esaminare le sue cartelle cliniche. Vengono così a scoprire che Martin non aveva il cancro e nemmeno la sclerosi multipla. Alexis e Rachel, le figlie di Michelle, vanno quindi dagli investigatori per chiedere una revisione del rapporto tossicologico della madre. Alexis, dopo che era tornata a casa, aveva cercato le pillole di sua madre per controllare quante ne avesse prese, ma non era riuscita a trovare i flacconi da nessuna parte. Era scomparso anche il libretto dove si appuntava i farmaci che assumeva sua madre, il cibo che mangiava e i suoi parametri vitali. La stanza era completamente ripulita, non c'era nulla che provenisse dall'ospedale. Qualcuno si era preoccupato di far sparire tutto. Nel bagno mancavano anche il tappeto e il bidoncino della spazzatura e vari effetti personali di Michelle. Martin dice ad Alexis che probabilmente è stata la polizia a portare via tutte le medicine che stava assumendo. Poco dopo arriva a casa anche sua figlia Rachel e lui a quel punto dice a entrambe che è necessario effettuare un'autopsia di modo che nessuno pensi che possa aver ucciso sua moglie. L'autopsia viene effettuata e come ho già anticipato emerge che la donna è morta a causa di un infarto. Martin quindi non ha nulla di cui preoccuparsi. Il medico che aveva esaminato Michelle prima dell'intervento chirurgico aveva notato che aveva la pressione alta ma l'elettrocardiogramma mostrava che il suo cuore batteva regolarmente. Non aveva alcun problema o segni di malattie cardiache. Di certo la donna non era a rischio di infarto. Emerge anche un altro fatto interessante. Prima di morire Michelle aveva chiesto a Martin se avesse una relazione con un'altra donna. L'uomo le aveva risposto che non aveva di certo il tempo di trovare un amante stava lavorando duramente per prendersi cura di lei e della loro famiglia. Se ultimamente si teneva un po' più in forma era solo perché voleva avere un aspetto migliore. È stato a questo punto che Martin aveva detto a Michelle che forse anche lei aveva bisogno di un cambiamento quindi le aveva proposto di sottoporsi a quel lifting. Il presentimento di Michelle sull'adulterio del marito si è poi trasformato in insicurezza verso se stessa e a questo punto Martin appare chiaramente come un manipolatore. Michelle questa paura l'aveva espressa anche a sua figlia Alexis. Le aveva detto che aveva il presentimento che suo padre la tradisse. Alexis era riuscita a prendergli il cellulare di nascosto ed esaminandolo aveva scoperto che c'era un numero che lui chiamava continuamente nel cuore della notte. Quel numero di telefono apparteneva a una donna di nome Gillian Willis. Quando avevano chiesto a Martin chiarimenti al riguardo lui aveva spiegato a sua figlia e a sua moglie che stava parlando con questa donna perché era un'inquilina di una delle case che aveva affittato. Aveva bisogno di contattarla spesso per chiederle delle cose e sapeva che lei a quell'ora era sempre sveglia. Ora dovete sapere che Alexis era la pupilla di suo padre e lei voleva tanto renderla orgoglioso. Aveva deciso di frequentare la facoltà di medicina per essere come lui. Era disposta a credere a qualsiasi cosa dicesse perché non aveva mai fatto nulla che potesse danneggiare la famiglia. Fino al momento della morte di Michelle non aveva mai parlato di avvenimenti passati con la famiglia di sua madre. Quando è andata da loro per raccontargli quello che era successo e cosa stava scoprendo stava ancora cercando di trovare delle scuse per giustificare il comportamento di suo padre, purtroppo. Così i familiari da parte di madre le dicono che si sta comportando proprio come faceva Michelle. Infatti anche lei cercava in continuazione scuse per Martin. Dovete sapere che quando Martin e Michelle erano scappati per sposarsi in gran segreto non l'avevano fatto per romanticismo o perché volevano sposarsi il prima possibile. bensì perché sapevano che la famiglia di Michelle avrebbe osteggiato la loro unione. A loro Martin non piaceva affatto quindi non volevano che si sposassero. Alla famiglia di Michelle Martin non era piaciuto fin dall'inizio. Non la provavano. Credevano fosse molto strano e autoritario ma sfortunatamente Michelle era già innamorata e ampiamente manipolata. Ciò che aveva fatto infugiare la sua famiglia nei confronti di Martin è stato il fatto che lei lo aveva sorpreso a guardare ai materiali piccanti, hot e questi comportamenti erano assolutamente disapprovati dai mormoni. Quando Michelle gli aveva detto che voleva lasciarlo lui aveva minacciato di togliersi la vita ma non solo, anche di togliere la vita a lei. Un paio d'anni prima della morte di Michelle Damien aveva dovuto lottare con Martin fino a scaraventarlo a terra perché stava stringendo tra le mani un coltello da macellaio mentre inseguiva Michelle. Dopo che era stata chiamata alla polizia aveva trascorso una notte all'ospedale psichiatrico. Mentre gli investigatori dello Utah stanno archiviando la morte di Michelle come naturale sua sorella Linda decide di scrivere una lettera al governatore chiedendo di indagare sulla sua morte. Tre giorni dopo il ritrovamento di Michelle Martin insiste affinché si svolga subito il funerale e impedisce alla famiglia di Michelle di parteciparvi. Durante la funzione i figli di Michelle sono in piedi e in lacrime quando notano una donna mai vista prima tra le persone li riunite. Martin sta tenendo un comportamento strano che tutta la comunità presente nota. Scherza e continua ad affermare che la vita è stata ingiusta nei suoi confronti. La comunità inizia ad avere dei sospetti sul vedovo. Forse Martin aveva davvero ucciso Michelle? Nel giro di poco tempo questa teoria viene abbracciata da parecchie persone. Eppure Martin è ancora libero, sta curando i suoi pazienti e si sta occupando delle bambine più piccole che aveva adottato con sua moglie. Dopo il servizio funebre la giovane donna misteriosa si avvicina a Martin, Alexis e Rachel. Dice di chiamarsi Gypsy e afferma di essere molto dispiaciuta per la loro perdita e aggiunge che, dato che frequenta la storia per infermieri si rende disponibile per aiutarli in qualsiasi modo. Martin prende il suo numero di telefono e non appena Gypsy si allontana inizia a scherzare dicendo di doversi abituare ad essere di nuovo scapolo. Poco più di una settimana dopo Martin inizia a organizzare dei colloqui per trovare una tata dato che le quattro figlie più piccole continuano ad essere affidate a lui. Alexis e Rachel si offrono di posticipare il loro ritorno a scuola per badare alle piccole durante questo periodo difficile. È loro intenzione fare tutto il possibile per aiutare il padre. Lui però dice alle figlie che non ne ha bisogno ha già organizzato dei colloqui e ben presto una donna si trasferirà nella loro casa. Una donna in effetti viene presentata alla famiglia e si trasferisce presso la loro abitazione Alexis però si rende conto che questa fantomatica tata non fa nulla in casa non cucina, non fa le pulizie e soprattutto non si prende cura delle bambine e all'improvviso si ricorda dove ha visto questa donna era al funerale di sua mamma aveva parlato sia con lei che con suo padre. Alexis a questo punto scopre che il suo nome per esteso è Gypsy Gillian Willis. Michelle, sua madre, credeva che Martin avesse una relazione proprio con questa donna quella delle telefonate notturne. Così Alexis affronta suo padre chiedendogli perché questa donna non stesse svolgendo il suo dovere dato che era stata assunta come tata. Suo padre le risponde che Gypsy è un ospite, si arrabbia e dice ad Alexis come ti permette di venire qui in casa mia a fare queste domande? Dopo questa sfuriata Alexis e Rachel vengono addirittura cacciate di casa senza scarpe, senza chiavi e senza nessuno dei loro averi. Viene detto a entrambe che non fanno più parte della famiglia. Il problema è che le bambine più piccole vivono ancora in quella casa per questo motivo Alexis e Rachel sono costrette a continuare a parlare con loro padre. Anche se a questo punto credono realmente che potrebbe essere un assassino vogliono accertarsi che le loro sorelline siano al sicuro. Così alla fine a entrambe viene permesso di rientrare in casa. Gli viene detto che sono ancora le benvenute ma solo se tratteranno bene Gypsy. Cinque settimane dopo la morte di Michelle, il 23 maggio avviene un fatto veramente insolito e increscioso. Alexis si sveglia e si rende conto di avere le mani di suo padre nei pantaloni. Le sta massaggiando il sedere e contemporaneamente le sta leccando una mano. Comprensibilmente Alexis va fuori di testa e lui subito si scusa dicendole che gli dispiace che aveva pensato che lei fosse sua madre. Alexis lo minaccia. Gli dice che sarebbe andata dalla polizia a meno che non le avesse concesso la custodia delle bambine. Martin le dice che avrebbe potuto provare a batterlo, a vincere, ma se avesse perso, cosa molto probabile, lui l'avrebbe rovinata e avrebbe distrutto la sua futura carriera. Le dice anche che ha il potere di farla cacciare dalla facoltà di medicina. Alexis però non si fa di certo intimorire, risponde a suo padre che avrebbe fatto tutto il necessario per riavere con sé le spessorelline. Successivamente va davvero dalla polizia e accusa suo padre di essere un predatore. Le viene però detto che è molto difficile per seguire penalmente un'aggressione intima del genere. In pratica le stanno dicendo che non c'è nulla che possono fare per lei. Accade esattamente la stessa cosa quando si rivolge ai servizi di protezione per l'infanzia per cercare di far allontanare da quella casa le sue sorelline. Le viene detto che suo padre non si era comportato in modo inappropriato con loro e che quindi non potevano portarle via. Secondo Alexis, suo padre è colpevole, senza alcun dubbio di omicidio e di violenza intima. Ma la sta facendo franca e continua ad avere ingiustamente la custodia di quelle bambine. Questa situazione però non si protrae a lungo perché successivamente Martin dice ad Alexis che avrebbe dato alle bambine in adozione. Le avrebbe affidate a un'altra famiglia che avevano conosciuto in precedenza e che era disposta ad accoglierle. Questo tipo di reinserimento non è legale anche perché la più grande delle ragazze adottate è Giselle che ha 16 anni e lei in realtà non sarebbe stata adottata bensì mandata a trovare sua sorella biologica in Ucraina per quell'estate. Questo perché c'è un altro piano in ballo dato che Gipsy ha circa 50.000 dollari di debiti e Martin ha l'idea perfetta per tirarla fuori dai guai. Prende il numero di previdenza sociale e il certificato di nascita di sua figlia adottiva Giselle e lo dà a Gipsy fornendole di fatto una nuova identità. Come se non bastasse anche la casa in cui abitano viene intestata a Gipsy mentre prima era di proprietà di Michelle. Nel frattempo Giselle è bloccata in Ucraina dove sta dormendo in un letto con tutta la sua famiglia ed è obbligata a lavarsi in una padella sul pavimento. Non riesce a rientrare negli Stati Uniti perché suo padre ha perso il suo passaporto. Questo è ciò che è stato detto a Giselle mentre sua sorella sta facendo del suo meglio per farla tornare indietro. Tutto questo va avanti per circa un anno poi nel 2009 le cose iniziano a cambiare. Giselle in Ucraina riesce finalmente a ottenere tutti i documenti di cui ha bisogno per tornare negli Stati Uniti. Si è scoperto che negli Stati Uniti c'erano due persone con lo stesso numero di previdenza sociale e da lì non è stato difficile capire cosa stesse succedendo. Martin e Gipsy vengono arrestati per furto d'identità. Entrambi si dichiarano colpevoli e Martin viene condannato a tre anni di prigione mentre Gipsy viene condannata a tre anni di libertà vigilata. Questo dà il tempo alle figlie di cercare delle prove che possano essere collegate all'omicidio della madre e finalmente nel 2010 gli investigatori Doug Whitney e Jeff Robinson vengono assegnati al caso. Riescono a convincere il medico legale capo dell'Oiuta il dottor Todd Gray a rivedere ancora una volta il rapporto tossicologico. Il dottore scopre che nessuno dei farmaci che Michelle stava assumendo presentava livelli tossici elevati ma che la combinazione di tutti i farmaci avrebbe potuto effettivamente provocare un arresto cardiaco. Così la causa della morte di Michelle viene cambiata da naturale a indeterminata perché si ritiene che siano stati gli effetti combinati del suo stato di salute e della tossicità dei farmaci a causare il decesso. Questa è una grande grandissima vittoria per Rachel e Alexis. Finalmente hanno qualcosa di più concreto su cui basare le loro accuse. I detektivi a questo punto interrogano Ada la bambina più piccola e lei afferma di aver visto sua madre completamente vestita immersa nella vasca da bagno. Poi su richiesta di suo padre Martin era andata a chiamare un vicino di casa e infine le era stato detto di andare a giocare con i bambini dei vicini per il resto della giornata. Poiché Ada è piuttosto piccola e ha chiaramente subito un trauma i detective chiedono alle sorelle maggiori Rachel e Alexis di domandare alla bambina se ricordasse altre cose di quella giornata. Così Alexis che a questo punto è diventata la sua tutrice chiede a Ada la posizione precisa in cui si trovava Michelle e quanta acqua c'era nella vasca. Le sue risposte confermano che la donna non era semplicemente scivolata nella vasca. Riesaminando il caso gli investigatori si rendono conto che potrebbe esserci un altro sospettato oltre a Martin ovvero suo figlio Damien. Damien ha 24 anni e frequenta la facoltà di giurisprudenza di New York. Il giorno della morte di sua madre però era lì a Pleasant Grove. Gli investigatori sono molto diffidenti nei suoi confronti perché emerge che presumibilmente ha avuto pensieri molto cupi per tutta la sua vita. Dopo aver indagato su di lui inviano una lettera al suo college dicendo che lo ritengono molto pericoloso. Possiede impulsi omicidi e su Twitter esprime gioia all'idea di commettere un omicidio. Tuttavia non ritengono che sia coinvolto nella morte di sua madre. Lo stato dell'Oiuta accusa Martin dell'omicidio di sua moglie a soli due mesi dal suo rilascio. Martin afferma che non vuole che sua figlia Aida testimonia il processo sostenendo che Alexis l'abbia influenzata dandole delle informazioni inesatte. La corte in effetti decide che Aida non è considerata idonea a testimoniare ma il suo interrogatorio può essere mostrato al processo e può essere convocata per il controinterrogatorio. Si fa avanti un altro testimone ovvero il compagno di cella di Martin e non è il solo. Ci sono ben cinque detenuti disposti a testimoniare contro Martin i quali sostengono che lui stesso aveva confessato di aver ucciso sua moglie Michelle. Martin tenta ancora una volta di far escludere questi testimoni perché inattendibili ma la corte glielo nega affermando che la giuria sarebbe stata in grado di valutare la credibilità delle loro parole. Nel novembre del 2013 ha inizio il processo. Un cardiologo attesta che il cuore di Michelle non presentava condizioni così gravi da essere a rischio di infarto. Un esperto in patologia forense testimonia di non aver trovato prove di miocardite suggerendo che Michelle sia morta per annegamento poiché i polmoni erano pieni d'acqua. Il patologo forense basa la sua conclusione su quattro punti. In primo luogo Michelle ha rigurgitato grandi quantità di acqua mentre i soccorritori le praticavano la rianimazione cardiopolmonare il che indica che aveva ingerito dell'acqua. In secondo luogo era presente dell'acqua anche nelle vie aeree. Questo vuol dire che aveva inalato una quantità significativa di acqua. Inoltre i suoi polmoni erano due volte più pesanti del normale. Per finire il suo sangue era significativamente diluito un segno che l'acqua inalata aveva raggiunto la circolazione sanguigna. Parlano poi i cinque informatori della prigione ovvero i detenuti che hanno parlato con Martin riguardo all'omicidio di sua moglie. Martin non era riuscito a tenere la bocca chiusa e aveva confessato loro di aver commesso il delitto. Le identità dei detenuti non sono note quindi li chiamerò detenuto 1 detenuto 2 e così via. Il detenuto 1 afferma di aver conosciuto Martin grazie a un corso di informatica in prigione. Una sera aveva visto una foto di Martin in un notiziario televisivo e sebbene non riuscisse a sentire l'audio aveva comunque capito che il programma TV sosteneva che Martin avesse assassinato sua moglie. Quando il detenuto 1 aveva parlato a Martin del programma televisivo lui gli aveva confessato di aver dato a sua moglie un po' di ossicodone e dei sonniferi e di averle poi tenuto la testa sott'acqua per il tempo necessario a farla negare. Quando questo detenuto il detenuto 1 gli aveva chiesto per chi avesse ucciso Michelle Martin gli aveva risposto che era perché lei voleva la casa e i bambini. In ogni caso le autorità non avrebbero potuto provare che lui avesse fatto qualcosa per porre fine alla sua vita. Il detenuto 2 testimonia di essere stato compagno di cella di Martin per due anni e afferma di aver sentito girare delle voci sul presunto assassino della moglie da parte di Martin quindi gli aveva chiesto se fosse vero. Sul banco dei testimoni dichiara che Martin gli aveva detto che non potevano provarlo dato che il farmaco che stava assumendo Michelle le era stato prescritto dal chirurgo. Il detenuto 3 testimonia di aver trovato un articolo su Martin sulla rivista People dove si sosteneva che Martin avesse assassinato sua moglie. Quando questo detenuto aveva chiesto a Martin se fosse vero Martin gli aveva risposto no non ho assassinato mia moglie e se l'ho fatto non hanno prove. Anche il detenuto 4 afferma sul banco dei testimoni di aver sentito dire che McNeil aveva ucciso sua moglie. Quando il detenuto 4 aveva domandato a Martin se fosse vero lui gli aveva risposto la cagna è annegata. Il detenuto 5 testimonia di essere stato ospitato nella stessa unità carceraria di Martin mentre attendeva il processo per omicidio. Aveva chiesto a McNeil perché non indossasse le scarpe obbligatorie fornite dal carcere come gli altri detenuti e McNeil gli aveva risposto che poteva farla franca con molte cose per esempio con l'omicidio. Per di più quando gli aveva porto le condoglianze per la morte di Michelle Martin gli aveva detto oh no sono contento che quella stronza sia morta. Ma esaminiamo ora alcuni dettagli del rapporto tra Martin e Gypsy. Martin aveva conosciuto la sua amante Gypsy nel 2005 mentre chattava online due anni prima dell'omicidio di Michelle. Avevano iniziato a parlare sempre di più e avevano stretto un legame molto forte grazie alla passione condivisa per la fisica quantistica il tutto alle spalle di Michelle. Erano convinti di essere una coppia perfetta inizialmente erano solo amici ma Gypsy si era trasferito in una casa di proprietà di Martin che stava affittando inoltre Martin gli aveva dato una carta di credito per permetterle di pagare la scuola per infermieri da lì avevano iniziato a parlare di futuro insieme i giorni seguenti alla morte di Michelle Martin che avrebbe dovuto essere un marito e il lutto ha mandato alla sua amante più di 30 messaggi il giorno del funerale di Michelle Gypsy si è presentata senza essere invitata questo perché temeva che Martin potesse dimenticarsi di lei e andare avanti con la sua vita il giorno dopo la morte di Michelle sempre per questo motivo Gypsy aveva mandato a Martin delle foto esplicite avevano poi deciso di inscenare quell'incontro casuale per far credere alla figlia che Martin stesse cercando una tata e che Gypsy fosse perfetta per quel ruolo i due dormivano insieme ogni volta che ne avevano l'opportunità e spesso andavano in vacanza insieme nel Wyoming solo dopo tre mesi dalla morte di Michelle Martin era andato a incontrare i genitori di Gypsy e poco dopo gli aveva chiesto di sposarlo quando Martin e Gypsy avevano rubato l'identità della figlia di Martin la donna non era stata così felice ma Martin gli aveva detto che era una soluzione temporanea e che non avrebbe fatto del male a nessuno dopo undici ore di deliberazione Martin viene giudicato colpevole e condannato a quindici anni di carcere per omicidio di primo grado più un'altra pena di quindici anni per ostruzione alla giustizia Martin presenta una mozione post processuale chiedendo un nuovo processo sostiene che la polizia non ha mai cercato un colpevole alternativo e inizia a puntare il dito verso suo figlio Damien ci sono in effetti delle teorie secondo cui anche Damien potrebbe essere coinvolto nel delitto gli investigatori quindi indagano su di lui la notte dell'omicidio lui e la sua fidanzata erano arrivati a casa e avevano trovato dei flaconi di pillole quasi vuoti Martin aveva detto a Damien che Michelle non le stava più assumendo e gli aveva chiesto di gettarle nel water non emerge altro però nei suoi confronti mentre le indagini sono in corso il ragazzo si toglie la vita molti sostengono che l'ha fatto perché si sentiva in colpa ma sua sorella in seguito dirà che Damien era perseguitato dal pensiero della morte di sua madre Alexis in realtà ritiene che l'accomplice di Martin in questo omicidio sia proprio l'amante di Martin Gypsy tuttavia la donna non verrà mai accusata si viene però a sapere che le compagne a distanza di Gypsy l'avevano sentita affermare che voleva che Michelle se ne andasse e che la donna aveva in camera una sorta di altare dedicato a Michelle grazie al quale lanciava maledizioni contro di lei Gypsy infatti affermava di essere una strega e in un'occasione aveva anche detto di voler tagliare i freni dell'auto di Michelle nel dicembre del 2013 Martin intenta di togliersi la vita in prigione ma sopravvive nel 2014 deve affrontare un processo per abbandonati intimi nei confronti di sua figlia Alexis la ragazza testimonia dicendo di non essere la sua unica vittima ma anche se non vorrebbe continuare a parlarne rifiuta l'accordo di patteggiamento affermando che avrebbe mandato un messaggio sbagliato se Martin non fosse andato a processo afferma che indipendentemente dall'esito del processo si sarebbe sentita meglio sapendo di aver fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia e le sue sorelle da suo padre la difesa sostiene che Alexis ha accusato suo padre solo per ottenere la custodia delle sue sorelle l'accusa replica che il motivo potrebbe essere quello ma ciò non significa che stia mentendo dopo due ore e mezza di deliberazione Martin viene giudicato colpevole anche di questo reato e viene condannato a ulteriori 15 anni di carcere tenta di fare appello ma viene respinto le sue figlie dichiarano di essersi rese conto che il padre che loro conoscevano era un personaggio immaginario che recitava per tutto il tempo capiscono che la loro vita è sempre stata circondata da bugie e non è finita qui emergono delle notizie sul passato di Martin ancora più inquietanti sappiamo che Martin è nato il primo febbraio 1956 chi aveva un fratello deceduto in tenera età e chi ha 17 anni si era arruolato nell'esercito ma che solo due anni dopo era stato congedato emerge che il motivo del suo congedo è collegato a una diagnosi di schizofrenia la sua fedina penale è iniziato a macchiarsi proprio in quel periodo aveva iniziato a emettere assegni fraudolenti grazie ai quali aveva comprato una casa e dei gioielli ma era stato scoperto finendo in prigione per 180 giorni Martin nel frattempo stava ricevendo dei sussidi iperveterani che presentano problemi di salute mentale che ammontavano a circa 3000 dollari al mese quando aveva ucciso Michelle li riceveva ancora anche se era in grado di lavorare era addirittura un medico di successo ma la cosa veramente assurda è che si scopre che in realtà non è nemmeno un vero medico dopo un'analisi scrupolosa si è scoperto che i suoi certificati universitari erano falsi aveva preso quelli di un altro studente non era mai diventato un vero dottore mentre era sposato con Michelle Martin aveva avuto un'altra amante oltre a Gypsy una donna di nome Anne Walthall Martin aveva confidato a questa donna che sapeva come indurre un infarto facendolo sembrare una morte naturale le aveva anche confessato che la morte di suo fratello che si chiamava Rufus Roy in realtà non era stata accidentale l'aveva annegato lui stesso nella vasca da bagno molti anni prima esattamente come aveva fatto in seguito con Michelle il suo movente alquanto particolare ha detto di averlo fatto perché era imbarazzato dal comportamento di suo fratello cercava in continuazione di togliersi la vita dunque ci aveva pensato lui a ucciderlo Martin ha avuto dei pensieri omicidi fin da bambino aveva anche cercato di uccidere sua madre ma fortunatamente sua sorella era tornata a casa in tempo riuscendo a salvarle la vita Martin non è mai stato indagato per i crimini commessi e i danni della sua famiglia e per di più ha ammesso anche di aver ucciso diversi pazienti mentre lavorava come medico diverse pazienti inoltre hanno iniziato a farsi avanti dicendo che Martin le aveva aggredite intimamente l'uomo avrebbe potuto beneficiare della libertà condizionale nel 2031 ma il 9 aprile 2017 ovvero 10 anni dopo l'omicidio della moglie e due anni e mezzo dopo la sua condanna Martin McNeil si suicida in prigione all'età di 61 anni i suoi figli davanti alla sua morte decidono di perdonarlo e di lasciare finalmente andare il dolore e l'odio che provano verso Martin Alexis ha cambiato cognome in Summers il cognome di Michelle da Nubile è riuscita a diventare medico e ad adottare le sue sorelline Ada Sabrina ed Elle afferma che sono ragazze meravigliose che si sente fortunata a poterle avere al proprio fianco dopo tutto quello che è successo vive ancora nell'Oiuta ora ha un marito e tre figli e la sorellina più giovane che ha adottato Ada di recente si è diplomata al liceo Rachel è diventata un'assistente sociale mentre Sabrina ed Elle hanno avuto anche loro dei figli ogni anno la famiglia si riunisce per celebrare il compleanno di Michelle con una torta al cioccolato ossia la sua preferita veniamo ora alle conclusioni finali trovo assurdo come al solito che si preferisca commettere un omicidio piuttosto che divorziare è una cosa che non riesco proprio a spiegarmi anche perché Martin non aveva problemi di denaro avrebbe potuto quindi lasciare sua moglie senza avere grosse ripercussioni sul suo stile di vita ma soprattutto mi domando davvero Gipsy non c'entra niente con la morte di Michelle ho il presentimento che questa donna sapesse di più di quanto volesse far intendere ma non credo che abbia partecipato attivamente all'omicidio di Michelle ci sono poi per quanto mi riguarda altri interrogativi Martin ha davvero ucciso suo fratello? è in caso affermativo perché nessuno ha indagato su questo omicidio? ha anche ucciso alcuni dei suoi pazienti? e allora come è riuscito a fare in modo che nessuno se ne accorgesse? e perché Damien ha accettato di buttare le pilole che stava assumendo sua madre? riguarda questo caso il fatto che mi ha lasciata più sconcertata è la motivazione per cui Martin ha ucciso suo fratello è assurdo dato che aveva provato più volte a togliersi la vita senza successo Martin aveva deciso di agire al posto suo ironia del karma alla fine lo stesso Martin si è tolto la vita in carcere ho l'impressione che essendo riuscito a farla franca la prima volta con l'omicidio del fratello abbia pensato di poterlo fare di nuovo è diventato arrogante come quasi tutti gli assassini che non vengono scoperti pensando di essere invincibile e più furbo della polizia il mio ultimo pensiero va alle figlie di Michelle che purtroppo sono dovute crescere senza la loro mamma e in particolar modo ad Alexis che ha combattuto fino alla fine per ottenere giustizia dimostrando un incredibile e ammirevole coraggio questo ci porta alla fine di questo caso e quindi di questo video ovviamente sono assolutamente curiosa di sapere quali siano le vostre opinioni quello di Michael è stato un delitto quasi perfetto se le sue figlie non si fossero impuntate non avessero deciso di vederci più chiaro Michelle starebbe tuttora aspettando giustizia probabilmente una giustizia che non sarebbe mai arrivata quindi fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere che emozioni vi ha suscitato quali sono i vostri pensieri le vostre opinioni e non vedo l'ora di leggervi nei commenti perché io leggo sempre tutti e sono sempre molto molto curiosa di conoscere le vostre opinioni io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.